Le frazioni sono le più colpite, stanotte Castroncello e soprattutto Manciano, dove i cittadini non dormono più. Hanno creato un gruppo WhatsApp per passarsi le informazioni. Da sabato scorso non bastano le dita di due mani per tenere il conto. Sembra proprio che non abbiano paura di nulla, entrando nelle case alle 10 di sera con le persone dentro, come è successo anche all'assessore Sebastiani. Questo invece è il racconto di stanotte. Verso le 10 e mezzo circa il cane ha cominciato a bagliare, mio marito si è svegliato di corsa, ha visto la finestra, ha visto un'ombra e anche si è alzato e è andato dietro, ma è stato molto più veloce a scappare dietro casa. Abbiamo controllato comunque le telecamere di sorveglianza e effettivamente stava gironzolando, cercando qualcosa insomma. Si dorme malissimo, questa notte non abbiamo dormito, tutto il vicinato è stato allertato tra di noi, abbiamo fatto diciamo una sorta di ronda tutta la notte. Presidiare la zona sì, avere un controllo, le forze dell'ordine sono intervenute, però giustamente possono fare quello che possono fare. Il ladro con lo zainetto sembra che sia contenti di tutto, prendendo di mira anche le auto parcheggiate, come è successo a quest'uomo che verso le 23 ha sentito un rumore di vetri rotti. Quando mi sono alzato, ho preso le chiavi della macchina, sono andato alla macchina, ho visto che il vetro della macchina era rotto e dentro c'era più il borsetto, che anche io con i *** ci ho lasciato dentro il borsello e marsupio con vari documenti. Però la fortuna che la mia vicina alle case ha ritrovato la borsetta attaccata al cancello con tutti i documenti. Soldi no, però i documenti c'erano tutti. Il sindaco Agnali fa appello alla sinergia tra cittadini e forze dell'ordine.